Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Chiara del canale Luigi Cavaliere in questo video Allora, una cosa, prima di questo Allora, questo è un video della recensione finalmente E allora, vi ricordate il video scorso che avevo detto che non avevo trovato Franchise Ship Games ieri Ma grazie ai vostri commenti Oggi alle 4 l'ho visto, grazie, grazie amiche, grazie tante E bando alle ciance E passiamo al video Che questo video, mentre nella recensione Che è una recensione finalmente E ho questo Che per niente sarebbe Il giardino dolcivere con grani, questa, tutto Però se l'ha fatto con i poni piccoli Ma è bellissimo, questo non è uno sfondo, è proprio fatta la vera Eeeh Vediamo un attimo la scatola C'è il logo My Little Pony, bello grande Poi tutti i cutie mark qua, vabbè Non so che c'entrano Niente, no, non erano cutie mark, scusate Un albero Poi questa qua, non so come si chiama Granny con le mele Che prendeci anche lei qui, però piccola Poi le mele, ehm, friendship is magic collection Qui logo del albero Eeeh, qua dai treni in su quindi io posso Poi qua tutto inglese, sweet, apple, crash, bleb, 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 e qua tutto colorato Poi dietro c'è E da qua, oddio Chiudiamo un po' un punto Ah, qua, 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 qua C'è pure lo sfondo poi Aiuto Ma io così Uso le forbici, no Così almeno non rovino neanche la scatola Perché io le scatole me le conservo Bell'idiota che sono Non dico che chi colleziona le scatole è un idiota Però io sì Tutti quelli che collezionano le scatole sono intelligenti Ma io sono idiota, ok? Scusate Oddio, ce l'ho fatta Ce l'hiamo fatta E ce l'ho pure lo sfondo staccato Bello, bellino E Se non fa una paticaccia E vabbè Vabbè Questo è il tutto che ho trovato Che è bellissimo Lo giuro Lo adoro praticamente Tutto bellissimissimissimo E Vabbè, allora Qua abbiamo la seggiolina Dondolo di Granny Che è Poi C'abbiamo Granny Che è carinissima Che C'è C'è il carrellino Granny Io ce l'ho Però ce l'ho Come dire Trasparente Con Cristallo Questo invece è proprio quello originale Piccolo Che carino Ma poi c'abbiamo il cestino con le miele Che carino Anche questo Ah poi La tovaglietta di picnic Più Un muffin Aspettate Questo muffin Mmm Madonna Questo muffin E la mela caramellata Sembra Vabbè Poi c'è lo scogliattolo Che è piccolo Carino Poi Troviamo lei Che è la cosa più bella Per me No dai scherzo Però è carinissima Che ha pure la treccia Che ha pure la treccia Ha gli occhi verdi Ha gli occhi di marchi di tre muffin Verdi con la palla verde È bellissima Carina Carina Ah poi c'abbiamo qua Non so che è un tortino O dei popcorn Non ho idea Forse un tortino Più un tavolino Ah poi c'è il giardino dolci No La casa di Applejack Che le porte si possono aprire E chiudere Ovviamente Oddio Che è bella 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 Vabbè dentro è così Semplice Oddio Vabbè La torrietta da picnic qui E questo è lo sfondo Vabbè ragazzi Spero che questa retenzione Vi sia piaciuta Concludo con il video Ricordate di mettere like Commentate E iscrivetevi Ciao ragazzi Yeah Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.